L'apertura della porta santa della cappella dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gera, oggi tra le emozioni dei presenti, un momento assai significativo e partecipato. La porta è un importante simbolo, richiama il passo evangelico di San Giovanni. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà Pascolo. L'apertura della porta è anche simbolo del cuore misericordioso di Dio dischiuso nel fianco aperto di Cristo sulla croce. La ragione perché ho voluto anche in questa sede aprire una porta santa, ma diciamolo più specificamente una porta della carità, è perché propriamente vorrei far capire che non soltanto ai malati è data la possibilità di poter vivere questo momento giubilare, ma anche a chi non è malato di, visitando le persone bisognose, le persone malate, trovarsi nella disposizione di poter attraversare una porta, la porta santa. Che la porta santa non è un luogo fisico, anche se alla fine viene considerato tale, ovviamente per motivi logistici, ma è legato all'esistenza delle persone. Quanti di noi facciamo del bene, tendiamo la mano ad una persona che ha bisogno, che si riesce ad accogliere, ad accudire, a mostrare affetto. Allora in questo modo noi viviamo non solo il giubileo della misericordia straordinario, proprio per questo motivo, perché il loro noi attraversiamo la porta santa, per cui anche il lucrare le indulgenze in questo caso è legato effettivamente ad un gesto materiale, di visita, di attenzione, di ascolto, di cura della persona. Subito dopo l'apertura il Vescovo e tutti i fedeli hanno marcato la porta della misericordia. Essa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia, confessando che Gesù Cristo è il Signore. Oggi all'importante iniziativa erano presenti il direttore generale dell'ASP, il direttore sanitario dell'ospedale, il sindaco e tutto il personale medico e paramedico. Alla fine della cerimonia il Vescovo ha preseduto la solenne celebrazione eucaristica con la benedizione ai malati. Eccellenza, siamo alle porte della Pasqua. Il suo augurio per questa città intera, che vive un momento di assoluta crisi, non soltanto materiale, ma probabilmente più che prima di ogni cosa spirituale. L'augurio più grande, che le famiglie, anzitutto, possono trovare la gioia di poter condividere assieme, non solo questi giorni di festa, ma sempre, condividere assieme il pane che viene guadagnato con il sudore della fronte.